Qual è la situazione oggi a Valle Castellana e qui nel comprensorio a tre settimane dal sisma? Allora io le do due dati perché sarebbe complicato dare tutta la relazione che noi abbiamo preparato però può dare un'idea a questo, noi abbiamo fatto attraverso le squadre della protezione civile quindi la Dicomac delle famose schede Aides, ieri situazione al 14-9 abbiamo fatto 32 sopralluoghi di questi 32 sopralluoghi due sono di tipologia A che significa che non ci sono danni di rilievo 30 sono fra categoria E, F, D e qualche B credo che dia a questo un po' l'idea che i problemi ci sono C'è bisogno di fondi, di fondi per la ricostruzione e per far ripartire l'economia qui del comprensorio? una zona di periferia, perché non dirlo, quindi con le attività che soffrono anche per la crisi che c'è, conosciamo tutti quindi è importante intervenire subito per sostenere la ricostruzione e per sostenere le attività produttive, altrimenti ci abbandoneranno tutti quanti qui Crognaleto, uno dei centri in provincia di Teramo che ha subito maggiori danni dal sisma del 24 agosto avete avuto le risposte che vi aspettavate? In un certo qual senso già siamo molto qualificati sotto la ricostruzione e le procedure del sisma reduci di quelle che sono le memorie del 2009 adesso è partita la prima fase, cioè l'emergenziale adesso andiamo a verificare quelle situazioni di pericolo con i vigili del fuoco per poi ovviamente procedere alla ricostruzione vera e propria Soddisfatto il sindaco di Montorio Alvomano dell'incontro avuto con il commissario per la ricostruzione Rani? In questo momento è difficile di esprimere un giudizio di soddisfazione sicuramente c'è l'attenzione nei confronti del territorio terramano così come per gli altri territori abbiamo 57 persone ad oggi fuori dalle case, il numero sta variando di giorno in giorno perché ci sono nel frattempo quelle che sono le verifiche da parte della protezione civile e dopodiché c'è un problema di accavallamento di quelle che sono normative e procedimenti legati al sisma 2009 con quello che è il sisma 2016 noi abbiamo in iter l'approvazione dei piani di ricostruzione abbiamo chiesto che si faccia in modo che non si blocchi nulla grazie 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 grazie